Buongiorno e benvenuti a One to One, l'incontro con i grandi personaggi del mondo delle moto. Oggi abbiamo Fausto Gresini, che ha poco bisogno di presentazioni particolari perché è stato due volte campione del mondo come pilota, è stato più volte campione del mondo come costruttore, team manager e poi fa tante altre cose che incomincia a raccontarci subito. Cominciamo da questa stagione. Quali sono i programmi del team Honda Gresini? Si chiama così, no? Team San Carlo Honda Gresini. San Carlo. Beh, i programmi sono sempre ambiziosi. Noi abbiamo oggi due piloti nuovi per la nostra squadra, per la nostra struttura che parteciperanno a questo campionato del mondo di MotoGP che inizierà il 9 marzo. Saranno Shinya Nakano, pilota giapponese che ovviamente milita già da un po' di anni in MotoGP senza troppo fortuna e viene da un anno dove in realtà ha raccolto ben poco per diversi problemi che lui ha avuto e quindi abbiamo raccolto insieme alla Honda questa sfida di portare questo pilota ai massimi livelli, MotoGP, ovviamente un pilota che ha già fatto anche molti altri risultati, ha perso un campionato del mondo, lo volevo ricordare, in volata all'ultimo sprint, agli ultimi metri si è fatto soffrire un campionato del mondo da Oliver Jacques un po' di anni fa. In più abbiamo un pilota di San Marino che per noi comunque è italiano assolutamente, che è Alex De Angelis, pilota giovane, molto forte, sicuramente un pilota che ha molto talento e che debutta quest'anno in MotoGP con la nostra squadra, ha molta voglia di fare, ha molta voglia di imparare in fretta e scalpita molto, questo è molto positivo perché ovviamente in MotoGP si è avvergente che ha voglia di arrivare, di fare, che ha voglia di mordere in manubrio, molto importante questo, quindi sono contento di avere questa squadra nuova, sono convinto che avremo una squadra che ci darà grandi soddisfazioni e ora non vedo l'ora che inizia il campionato per cominciare a mettere poi in opera queste cose. Ecco, con il San Marinese parlate più o meno la stessa lingua o ci sono inflessioni dialettali diverse? Parliamo quasi dialetto, è molto facile, quindi sicuramente, è chiaro, parla italiano, è italiano, tutti gli effetti, quindi questo mi piace, io volevo un pilota che parlasse la nostra lingua, un pilota che potesse essere anche il futuro di MotoGP, credo che questo pilota rappresenti anche il futuro di MotoGP nel futuro perché comunque ha 23 anni e comunque ha anche l'aspetto fisico per la MotoGP. Come mai ha vinto così poco De Angelis finora? Per un fatto fisico, perché è un pilota un po' grosso così o… Credo che sia da imputare a diverse cose, credo che sicuramente la sua stanza fisica non l'aiuti, in 250 credo che si stancasse un po', probabilmente, non lo so, non conosco bene la sua squadra, non conosco abbastanza bene per lui per poter giudicare. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente ha talento, per quello che abbiamo visto noi come squadra in questo periodo, professionalmente gli abbiamo dato una carica e lui sta dimostrando di avere veramente i numeri per poter fare bene il MotoGP e questo per me è sufficiente per dire che può diventare un pilota vincente di MotoGP. Ecco, e con Nakano invece come vi intendete? Beh, lui parla molto bene inglese, quindi noi siamo ormai una squadra internazionale, anche se un po' ignorantelli ancora, però comunque diciamo che da buoni italiani ci sappiamo difendere, ormai la nostra è una squadra internazionale dove hanno corso diversi piloti giapponesi, appunto spagnoli, in questo caso non è più un problema, noi siamo un team di MotoGP, siamo un team internazionale, di conseguenza è normale che sia così. Ecco, spieghami un po' come funziona l'organizzazione del vostro team, la vostra sede dov'è? Noi abbiamo due sedi, abbiamo una sede tecnica santemente a Rimini vicino all'autodomio di Misano, per caso ovviamente, perché comunque i miei ragazzi di base sono, diciamo lo zoccolo duro della mia squadra è appunto di intorno di Misano e quindi ho scelto di fare la mia struttura tecnica a Misano assieme a Fabrizio Cecchini, in più ho una struttura, la parte operativa diciamo di marketing che è situata a Faenza, dove ho gli uffici, dove ho un'altra struttura dove gestisco hospitality e l'altra parte tecnica, l'ho praticamente divisa in due e tengo divise le due cose, io sono operativamente più a Faenza, perché ovviamente lì poi si seguono i contratti, si seguono i piloti, si seguono l'abbigliamento, si segue tutto quello che serve per andare ai gran premi, mentre nella struttura operativa si seguono le moto, si segue soltanto la parte tecnica. Ecco, ma quante persone hai da una parte e dall'altra? In totale noi siamo 30, fra interni e esterni 37 persone, quindi un bel gruppetto insomma ci dà da fare e considerare che la moto ovviamente le fa la onda, non dobbiamo fare sviluppo, non dobbiamo metterci a inventarci nulla, noi dobbiamo fare il nostro lavoro, dare informazioni e fare funzionare quello che già esiste, quindi non dobbiamo inventarci nulla. Ecco, i piloti di solito sono vicini al team, nel senso che vengono spesso a vedere il lavoro sulle moto o li trovate principalmente ai gran premi sulle piste? Beh, in realtà le moto al riporto corse rimangono poco tempo, poco tempo specialmente in questa prima fase, per esempio la MotoGP 2008 non è ancora arrivata al riporto corse, perché fra tutti i test che ci sono il primo gran premi non riesce a rientrare mai in Italia, quando è stata montata in Giappone è sempre stata in giro per il mondo e per l'Europa, quindi rientrerà soltanto dopo il Portogallo, quindi un periodo molto lungo, dopodiché ovviamente si seguirà dal riporto corse la moto, i piloti, Cignanacano verrà a abitare direttamente a Misano Adriatico, proprio perché io ho piacere di trasmettere quella che è la passione che noi abbiamo per le moto, quello che vogliamo, quello che per noi rappresentano le moto, credo che questa è la nostra passione trasmessa sicuramente da cariche ai piloti e sicuramente le mette in condizioni di rendere meglio. In più abbiamo tutti gli argomenti per poterli fare allenare, tipo la motard, la super motard, kart, tutto quello che fa rumore, che serve per comunque fare fatica fisica, per poterli mettere in condizioni di poter guidare meglio, noi lo facciamo. In più credo che essere vicino al team voglia dire anche conoscere meglio le persone, fare gruppo e nel fare gruppo io credo che si possa avere più risultato. Ovviamente per Alex è un discorso diverso perché sta veramente a due passi nel nostro reparto corso e quindi è tutto ancora più facile. I piloti di moto fanno un certo tipo di preparazione fisica, vera e propria come fanno i piloti di Formula 1 perché curano determinati aspetti della preparazione, il collo, i muscoli delle braccia eccetera. C'è qualcosa di specifico sulla moto? No, io credo che se va a essere veramente degli atleti bisogna essere preparati, bisogna essere preparati allo sforzo fisico non nell'istante ma nel lungo periodo perché quello che serve è che quando sei stanco, quando arrivi oltre metà gara che cominci a veramente sentire la fatica deve rimanere lucido. Se riesci a rimanere lucido riesci a arrivare alla fine della gara con una visione della gara più allargata e quindi una lettura della gara diversa rispetto a come sei se arrivi lì un po' stanco. Se arrivi lì un po' stanco ti mancano le energie, ti mancano le risorse per poter avere quel guizzo finale. Quindi ovviamente la preparazione fisica è fondamentale nella MotoGP. C'è qualcuno che si aiuta con additivi? No, io non li conosco. Io credo che tutto quello che noi abbiamo, che ogni tanto succede che purtroppo per uno scivolato o perché comunque succede che andare in giro magari uno sta male. Abbiamo la clinica mobile assieme a Dottor Costa e la sua equipe che si è sempre seguito molto bene, i piloti e anche noi perché alcune volte anche noi abbiamo i nostri acciacchi e quindi l'unica roba che si fa è questa. Credo che è una buona preparazione. Grazie a Dio il nostro sport è ancora uno sport sano, uno sport pulito, puro. Ecco, Nakano che è giapponese può essere la testa di ponte per avere un occhio particolare dalla Honda? Beh, sicuramente è l'unico pilota giapponese che guida una moto giapponese che guida con gomme giapponese e con freni giapponese. Noi siamo il team più giapponese che c'è nella MotoGP in questo senso. Quindi sicuramente Nakano per la Honda è importante, è l'unico, ripeto, giapponese che corre in MotoGP e quindi ovviamente noi speriamo che possa fare risultato. Per quanto riguarda la Honda sicuramente quello che interessa la Honda è che i suoi piloti team satelliti siano forti, veloci. Se meritano ovviamente come ha sempre fatto hanno un occhio di riguardo, ovviamente devono meritare come tutti i piloti, se non meriti certamente non ce l'hai. Come avviene dal punto di vista contratualistico la formazione di un team cosiddetto satellite della Honda, cioè le Honda GP, tu le acquisti, le noleggi? Beh, è una forma di noleggio, intanto c'è da dire che MotoGP e Moto a disposizione ci sono veramente poche. La Honda dispone di quattro moto per i team satelliti, di cui due le abbiamo noi e due le hanno altre due team. Ecco, l'affitto quanto costa? Un sacco di soldi, un sacco di soldi. La Honda non vuole mai che si parli di numeri, però sicuramente comunque costa oltre alcuni milioni di euro per fare una stagione solo per le moto e ricambi. Ecco, senza entrare nello specifico, il budget di un team tipo il tuo? Dipende molto dai piloti, poi puoi andare dai 12 ai 14, 15 milioni di euro. Compresi gli ingaggi dei piloti? Ovviamente, sì. E si riesce a coprirli con i premi? No, assolutamente no, se non hai i sponsor che ti seguono e partner che credono nel tuo progetto non puoi sicuramente colmarli con quelli che sono gli introiti che vengono dai diretti televisivi e che vengono dalla dorma, perché sono comunque una parte solo, una parte seppur importante, ma non così importante da poter determinare un campionato del mondo. Ecco, 14-15 milioni di dollari per, di dollari, di euro, per un team privato. Per 12 ai 15. E un team ufficiale a quanto può arrivare secondo te? Beh, è un discorso molto diverso perché in un team ufficiale c'è sempre anche lo sviluppo delle moto che ovviamente costa parecchio tantissimo, non so valutarlo sicuramente molto di più, credo che oltre il doppio. Qual è l'ambizione della vostra squadra quest'anno? Di cosa ti accontenteresti come minimo? Io non mi accontento mai, io sono orgoglioso, sono innamorato di quello che faccio, del mio sport e quindi sono sempre per risultato massimo, quindi io mi accontenterei di vincere, ma so che è molto difficile. Noi abbiamo vinto in MotoGP 14 gran premi, quindi è una bella sommetta, abbiamo sempre fatto grandi risultati e vogliamo continuare a incrementare queste nostre vittorie, queste nostre ambizioni. Ovviamente sappiamo che è molto difficile perché MotoGP è una categoria assolutamente molto competitiva, tutti corrono per vincere, tutte le case corrono per vincere. Noi abbiamo un ottimo prodotto che è una Honda sviluppata con le ultime specifiche di HRC e credo che questa sia una moto competitiva, quest'anno fino a oggi ci ha dimostrato di essere una moto veramente molto forte e noi vogliamo dimostrarlo. Certamente vorremmo essere protagonisti, essere protagonisti vuole dire ovviamente se si vince tanto meglio, ma comunque essere sul podio, essere sempre coi primi. Nei primi 5 alla fine del Mondiale ti andrebbe bene? Nei primi 5 vuol dire essere protagonisti, meglio nei primi 3. Senti, hai anche un pilota collaudatore quest'anno per lo sviluppo o no? No, noi non abbiamo piloti collaudatori perché i collaudi li fa direttamente HRC, ha i suoi piloti collaudatori, quindi non abbiamo bisogno di avere piloti collaudatori. Abbiamo semplicemente i nostri due piloti che già non è poco perché comunque gli impegni sono tanti, i test sono tanti e ovviamente per avere un test team serve avere come minimo altre una decina di persone, quindi ovviamente in più le moto, in più lo sviluppo che ripeto già lo fa la Honda, quindi sarebbe una roba non gestibile. Chi vedi da primo posto quest'anno? Beh, da primo posto ne vedo diversi, ne vedo un paio in realtà, credo che Stoner comunque da campione del mondo abbia dimostrato di essere assolutamente un numero uno, specialmente di avere un qualcosa in più come pilota proprio, considero un grande talento che si stona, credo che Valentino ovviamente non è da meno, Valentino è un grandissimo pilota che ha l'esperienza e la voglia e la determinazione di conseguire questo campionato, questo titolo e quindi vedo loro due in prima battuta i favoriti assieme a un pilota di HRC, di base vedevo il pilota spagnolo Pedrosa, diciamo più avvantaggiato, ma dopo l'incidente che ha avuto non lo so, lo vedo un po' più, sicuramente parte con un handicap, uno svantaggio rispetto agli altri, però il campionato è lungo, devo dire che ho visto la Honda veramente in forma e io credo che saranno assolutamente protagonisti, questi tre saranno i tre da battere comunque ecco di base, poi ci saranno tanti altri forti comunque. Senti, una curiosità che molti ci chiedono, come mai il mondo della moto si è accorto così tardi che Stoner è un fenomeno? Beh, in realtà quando se ne sono accorti tardi, perché non lo sapevano neanche le Ducati in realtà, perché comunque se lo sono trovati in mano e quindi hanno detto, beh, che bella sorpresa, quindi sicuramente MotoGP è una categoria talmente forte che alcune volte fai fatica a capire, a distinguere i valori, perché con poco fai una differenza veramente grande, credo che questo pilota l'anno prima che era il suo anno di debutto in MotoGP abbia dimostrato che aveva il talento, ma nessuno si aspettava che facesse una crescita in pochi mesi così grande, così importante. L'ha fatto, è stato bravo e bisogna dargliene alto, quindi sicuramente un grande talento. Battere Stoner sarà comunque molto difficile per chiunque. Valentino, alla sua età, ha ancora margine di miglioramento secondo te? Guardi, io credo che intanto alla sua età, ha un'età ancora assolutamente performante, però è già anziano come servizio. Io credo che pilota come Valentino, anche lui non si fermi mai ad imparare, quindi stia sempre attento a tutto quello che succede, a tutto quello che gli gira intorno, perché coglie quelle piccole cose sempre per migliorarsi sempre. Credo che il pilota che crede di essere arrivato, di essere perfetto, è un pilota perdente, sicuramente Valentino non è uno di questi. Valentino l'anno scorso è andato forte, è andato piano solo per colpa delle gomme? Io non credo, io non credo, non credo, credo che anche la moto non l'abbia aiutato. E quest'anno ti aspetti molto dalla Yamaha? Beh, diciamo in prima battuta, quello che abbiamo visto nei test, sicuramente abbiamo visto Valentino con la sua moto veramente migliorati rispetto al passato e sicuramente c'è il livellamento verso l'alto ancora più grande rispetto all'anno scorso. L'anno scorso le prime gare, bisogna ricordarlo, veramente la moto italiana ha fatto la differenza. Ti mancherà molto Menandri? Beh, mi manca anche perché sono affezionato a Marco, quindi per me è un caro amico, al di là del fatto che sia stato mio pilota per tanti anni, sicuramente per me è un pilota importante. Certo, mi manca, ma la vita continua, ho altri piloti, altri stimoli nuovi e faccio tanti Guri a Marco, ma soprattutto oggi tifo De Angelis ovviamente e Nakano, mi sembra abbastanza ovvio. Senti, spiegaci perché ogni tanto Menandri va nel pallone, si incaponisce, perde il filo della messa a punto e poi all'improvviso rispunta quando tutti lo davano per perso. Come mai è così incostante? Lui ha, secondo me, una grande dote, che è una qualità innata di guida. Credo che il suo Renz di lavoro è troppo limitato, dovrebbe lavorare di più su se stesso e allargare questo Renz, delle volte si incaponisce per delle cose. Cioè un Renz meccanico, impegnarsi di più, no, su se stesso. Sì, su se stesso, magari sulla messa a punto della moto, con poco è fuori o con molto poco è perfetta, quindi delle volte questo è il suo grande limite, dovrebbe allargare un po' questa sua visione di messa a punto, di setup della moto per poter riuscire ad avere anche con la difficoltà di avere un po' più di margine. Sicuramente questo è un po' il suo limite, per il resto è un pilota molto generoso, un pilota che quando ha tutto a posto è un pilota veramente vincente. Ti aspetti molto da Jorge Lorenzo che corre con Valentino Rossi ma in realtà in un'altra squadra con gli stessi colori e diverse gomme? Beh, sicuramente è una grande sfida, Jorge Lorenzo è un due volte campione del mondo, sicuramente è un pilota che già ha il carattere del pilota star, del pilota vincente. Ecco, è un super o è uno molto buono secondo te? Per me è un super anche lui, per me è un pilota veramente molto forte, lo ha dimostrato in 250, MotoGP è diversa, bisogna saperla interpretare, bisogna sapere anche usare la tranquillità per poter gestire una gara, quindi è una cosa un po' diversa rispetto alle altre cilindrate, credo che anche lui abbia bisogno di fare un suo percorso di apprendistato con questa moto, ma sono convinto che assieme agli altri piloti delle 250 che sono passati in MotoGP sarà uno dei piloti protagonisti di questo campionato del mondo. Vediamo un po' di te, tu sei imolese? Sì, mi sono anche orgoglioso, italiano assolutamente imolese. Ecco, hai una famiglia, come si svolge la tua giornata? Con una moglie, tre splendidi di fanciulli, due maschi e una femmina, quindi la mia giornata io parto la mattina. Tua moglie l'hai conosciuta quando correvi? Io correvo già, sì sì sì, assolutamente. Quindi ha preso la star? Ormai ha preso quello che c'era sul mercato, nel senso che ero così e quindi mi ha conosciuto già pilota, mi ha conosciuto già che girovagava il mondo e di conseguenza mi ha accettato per come sono, ecco, questo sicuramente stare vicino a una persona che comunque è così impegnata comporta anche dei sacrifici, è sempre il pro e il conto come in tutte le cose, però sono felice, sono felice di avere tre splendidi bambini, uno di 13 anni, un maschietto, Lorenzo, Luca di 8 anni e la piccola Alice di quasi 3 anni, quindi per me è questo. Luca ti chiedesse di fare il pilota un giorno, cosa diresti? Io ho detto che è meglio che faccia il calciatore, rischia di me ne guadagna di più, però non lo so se mi darà rete, no, io gli ho messo a disposizione le moto ma senza mai spingerli e quindi saranno loro a decidere, per il momento diciamo sono tranquilli, forse hanno abbastanza, vedono abbastanza il papà impegnato in quelle che sono le sue competizioni quotidiane, quindi magari in questo sono felici, insomma. Ti manca qualcosa del ruolo di padre, ti manca del tempo? Sì, sì, mi manca qualcosa nel ruolo di padre perché sono troppo impegnato per quello che faccio, come ti dicevo prima sono molto orgoglioso delle volte, diciamo prendo il mio tempo che dovrei dedicare alla mia famiglia, ai miei figli per il mio lavoro e questo magari è una cosa che un po' mi manca e mi pesa, però è così, sai delle volte tu sei così non ti puoi cambiare, ti devi accettare pure con i tuoi difetti, questo è un mio grande limite che riconosco ma che non so, vorrei stare di più con i miei figli e magari domani potrò dire magari che mi sono mancati perché non sono stato abbastanza con loro e quindi questa è un po' la cosa che mi infastidisce un po', per il resto amo il mio lavoro, ripeto, io la grande fortuna che ho avuto nella vita è quella di fare sempre quello che volevo, quindi avevo questa mia grande passione, l'ho prima fatta come da giovane pilota rampollo, poi sono riuscito a vincere il campionato del mondo, poi mi sono trasformato a team manager, poi continuo questa mia bellissima avventura che per me è sempre un'avventura, ogni giorno io vado in ufficio contento, felice di andare a lavorare perché comunque sono così, mi piace, sono contento di stare con la mia gente, con i miei ragazzi che ovviamente li ho scelti e me ne sono un po' cuciti anche addosso e questo per me è una grande soddisfazione, essere riuscito nella vita, essere realizzato è un gran bel sogno. Senti, ti è mancato, tu sei stato un grande campione del 125, due volte campione del mondo, grandissimi piazzamenti eccetera, ti è mancato dopo una dozzina d'anni di corse al massimo livello tirarti fuori dalla mischia? No, perché l'ho fatto consapevole di quello che volevo, quindi io quando ho scelto di non continuare a correre in moto, l'ho scelto non perché non ho trovato una moto ma perché non volevo diventare un vecchio pilota e quindi considerato, è un grande nome, una grande celebrità, di conseguenza diamogli una moto, proviamo, vediamo. Ho preferito lasciare consapevole che potevo ancora dare ma con la grinta di cercare di fare qualcosa di nuovo che mi entusiasmasse e la grinta che mettevo nella moto, guidare la moto l'ho messa per fare questo nuovo lavoro, una nuova attività e quindi mi sono concentrato guardando anche al futuro e devo dire che sono felice di questo. Tu hai vinto anche due campionati del mondo da manager con le due squadre? Uno solo, tre volte, secondo. Con Cato e Pedrosa però avevi con lui il tuo lavoro. Sì, in realtà sì, l'ho gestito ufficiosamente, in realtà abbiamo gestito anche Dani Pedrosa nella vincita del suo primo... Pedrosa riuscirà a diventare un grande? Per me lo è, è un po' sfortunato, è un grande talento sicuramente, ha i numeri per vincere, nella lotta corpo a corpo forse qualcosa gli manca. Credo che in questi anni non sia stato molto fortunato, per esempio l'anno scorso ha sicuramente lui patito più degli altri con i pneumatici, al mio modo di vedere. Però sicuramente è un grande campione e se avrà tutto a posto per vincere lo vedrete davanti perché lui è un vincente. Tu parli di una vita che è stata molto bella, ma c'è stato un momento particolarmente tragico quando un tuo pilota, il giapponese Cato, ha perso la vita. Il pilota che con te e con il tuo team aveva vinto il campionato del mondo del 250. Cosa ricordi di quei momenti? Beh, intanto ha provato con noi del giro Cato, ha vinto un campionato con noi e è finito purtroppo così tragicamente con noi. Guarda, l'unica cosa che posso dire... Ti è venuta mai la voglia di smettere in quei momenti? Sì, ci ho pensato. In quel momento lì è stato un momento terribile e che mi ha fatto riflettere molto. Ti dico francamente se avessi avuto un dubbio minimo che fosse successo qualcosa a livello tecnico non avrei assolutamente mai continuato a fare questo mestiere perché sarebbe stato troppo difficile, troppo coinvolgente per me. Ho scelto di continuare a fare questo mestiere proprio anche col suo nome, infatti noi portiamo 74, io ho 74 addosso sempre, lo porto nel nome del mio team e quindi per me è diventato un po' come una missione. Credo che da giro se poteva dirmi qualcosa mi avrebbe detto di continuare perché era il suo sogno della sua vita, era arrivare in MotoGP e vincere in MotoGP. Ci abbiamo provato, abbiamo sfiorato tre volte il campionato del mondo di MotoGP, abbiamo vinto la prima gara subito dopo la sua scomparsa con Sette Gibernau e credo che anche in quella gara lì ci sia stato un qualcosa di desilocato e non solo in quella gara lì ma anche in altre gare. Quindi diciamo noi abbiamo continuato a fare vivere anche il desilocato ed è per questo che abbiamo raccolto e abbiamo continuato questa attività. Per questo vogliamo continuare con la grinta di sempre per poter, spero un giorno, dare qualcosa di particolare o dedicare qualcosa di particolare a questo nostro grande campione che di nessuno ci guarda ancora. De Girocato di sicuro sarebbe stato un campione del mondo, presumo, no? Al di là di lui qual è stato il pilota più forte che hai avuto nelle grosse cilindrate. O il pilota che comunque ha ottenuto un po' di meno di quello che avrebbe meritato. Beh io ho avuto grandi campioni, ho avuto grandi campioni, sicuramente Sette Gibernau è stato un grandissimo campione come lo è stato Marco Melandi ma devo dire che nella nostra squadra sono passati i future di campioni, Alex Barros, Loris Capirossi, moltissimi, Dani Pedrosa come dicevamo prima. Quindi devo dire che grazie a tutti questi grandi campioni hanno tutti contribuito a far sì che la mia squadra evitasse un top team, un team di riferimento nella MotoGP anche se non un team ufficiale. Ecco benissimo, ringraziamo Fausto Gresini per il tempo che ci ha dedicato e soprattutto abbiamo apprezzato in lui la grande umanità, l'analisi perfetta di come ci ha descritto il mondo della MotoGP visto dal di dentro, visto che noi lo vediamo sempre dal di fuori, è molto colorato e molto bello, ci ha raccontato i momenti belli, i momenti tristi sempre con la sua semplicità ed è questo il valore più grande che ci ha dato in questi minuti che ci ha voluto regalare. Grazie. Grazie per questa possibilità che mi avete dato, per dedicare questa mia parte di vita che ho dato al mondo delle moto e che grazie a voi ho avuto modo di vi far riconoscere ai telespettatori. Grazie mille.